Ciao a tutti sono Rotus, bentornati sul mio canale, siamo di nuovo qui su Darksul3 e non vi stavo salutando, come sono una brutta persona, che brutto gesto, riposiamo cercando a farlo, torniamo all'insediamento, si all'altare del vincolo, a consegnare l'ossetto di Loretta, l'osso di Loretta a il nostro amico Gregat a sto punto, a dargli quindi la brutta notizia, e che dovrebbe trovarsi qua, in zona Fogne, No, qua c'è quello che mi ha liberato, io ho paura a parlarci, perché ho visto che ti può dare un livello bonus, però ti attacca anche a qualcosa di strano, tipo una maledizione, quindi ci arriveremo con calma, voglio prima capire cosa fa Oh salve, che piacere di vederti, in buona salute, il momento che faccio la mia parte, qualsiasi oggetto ti serve, basta dirlo, non chiedermi dove li abbia trovati però, in pratica un ladruncolo che ruba probabilmente dai cadavri, e ha oggetti interessanti, come i coltelli da lancio, la spada bastarda ce l'ha lui A me piace l'idea della spada bastarda, se devo essere sincero, scala DD in realtà, 125 più 26, la spada bastarda, 125 più 26, scalamento DD, che poi conta poco lo scalamento, perché se infondiamo con certe cose, possiamo aumentare lo scalamento in qualcosa La bomba con Mitch, andiamo a prendere la spada bastarda, fa 125 più 26, quanto fa quello che ho adesso? Arrivo, questo posto è completamente nervioso, cosa serve rubare se non è nessun posto in cui andare? Ok, fammi vedere un attimo, lui lì ha 125 più 26, questo è 103 puro, questo è 124 più 40, perché più 49? Se scala DD, uguale, in teoria, perché dovrà avere la destrezza 14, no? Però questa, mi sa che richiede tipo la titanite scintillante, per se lì, vabbè, sapete che vi dico, io me la spendo, 3000 anime Potrebbe essere una pessima scelta, ma chi se ne frega Spada bastarda Ci proviamo, vediamo quanto è ficato, addio e buona fortuna, va bene, l'hai già detto E equipaggiamoci la spada bastarda Che pesa tantissimo, andiamo palesemente sopra il carico Ci vediamo i guanti E vediamo un attimo come è il moveset Sì, come qualsiasi spada bastarda o spadone che ci sia nel gioco Ok Dai osso di Loretta Il nome del cielo, era già morta Grazie Non sono stupito In verità è quasi un sollievo Puoi tenere l'anello Un piccolo segno della mia gratitudine direi Però in realtà ha subito un po' il colpo Vabbè sì, ripeto E va bene, allora Avvio Buona fortuna Mi sembra che probabilmente abbia subito un pochino il colpo Ci sia rimasto particolarmente male Adesso, a te devo dare le schiacchette d'estus Che ho appena trovato Fantastico, ne ho altre, no A segna estus abbiamo sei fiaschette d'estus Perfetto Voglio vedere se posso No, non ho abbastanza anime ma posso comprarne Cioè posso comprarne, posso popparne E lo farò Perché voglio cominciare a usare un po' di titanite Tra l'altro non bisogna preoccuparsi perché frammenti di titanite se ne trovano davvero tanti Andando avanti Però non ho tante anime Anime morente non dà una mazza Anime di cavalier abbandonato Di un cadavere abbandonato No, non volevo fare così Non vanno amazzare anche lei Grande anime di un cadavere abbandonato Usiamone tre A caso Potrebbe aver esagerato Mille due Siamo a mille cinque Forse riusciamo a farci due livelli Spada bastare da più uno E spada bastare da più due Richiede un sacco di titanite potenziare l'arma Cioè adesso sei per farla più tre Però tutto sommato Poi se ne trovano appunto E adesso dovrei avere un'arma che fa un danno decente E quindi siamo pronti direi ad andare alla prossima zona Tra l'altro Da davanti potrebbe anche interessarci Dov'è la prossima zona? Qua Potrebbe interessarci e cominciare a potenziare il peso trasportabile Perché appunto le armi di questo tipo pesano Tuttavia Giusto non mi ricordo se nella strada di sacrificio poco più avanti Si trova un'arma Che è quella che sto usando con il mio personaggio privato Che però non so se sia migliora della spada bastarda a questo punto Devo informarmi Che è la spada oscura Che è quella in mano ai Wraith Ah dimenticavo che c'è la zona arpie Questa è la bellissima zona Questi nemici sono nemici che si trasformano Però conviene Colpirli molte volte di seguito E far sì che non si riescano a trasformare Quindi quasi quasi Potrebbe convenire andarci a due mani Potevo buttarmi giù su questo Beh Ogni volta mi scordo che è qua sotto Ah in realtà Se ci sta comunque tre colpi No forse ce ne stavamo quattro Impugnandola a una mano Pietra confessionale Cosa fa la pietra confessionale? Quella vedete? Ah qua Annulla infusione arma Ok interessante Interessante Mi piace la possibilità di poter Cambiare le decisioni prese precedentemente Anima di un vandante ignoto Che di solito è una cosa che non viene molto permessa Nei suo uso sto per stranutire Scusate Fantastica allergia Spero di non avervi trapanato il cervello Ah guarda un po' qua chi c'è Indovina un po' chi viene Cena Morto Mi piace Ehm Dovebbe essere C'era qualche parte la possibilità di buttarsi di sotto Ma non di qua Tra poco dovrò soffriarmi il naso e mutarmi Sappiatelo Però sto resistendo eh Vi giuro che non sto molando niente Dite che riusciamo a fare un backstab Tra l'altro un backstab con questo forse No Non ci riusciamo perché ho corso come un cretino Ti forse conveniva cercare di attaccarli assieme Ho finito la stamina Vai di scudo Oh Oh Pagliaccio Ti sei buttato di sotto Oh oh E te chi sei? A te sei uno che lancia l'avvelenamento in teoria Non un personaggio problematico Forse anzi Addirittura stessa vita degli altri Solo che ha la capacità di lanciarti l'avvelenamento addosso Cioè Lancia una dubba di veleno Non vuol dire niente Lancia l'avvelenamento Ci buttiamo giù Sì non sembrano esserci nemici E non mi L'ho già fatto questa zona una o due volte Però non mi ricordo assolutamente niente Scendendo di qua Incontreremo anche qua Un personaggio Eccola qua Dovebbe essere Forse Cioè Tutti la paragoniamo a Mildred Per il fatto che No però forse era proprio identica Anche il cappello era lo stesso Il NPC che ci invadeva Mi sembra Dopo la città infame Prima di arrivare da qui Volevo che ti avvicinassi Si è baffata l'arma Come possiamo notare L'ha affilata Mi sta colando tantissimo il naso Voi non avete idea La disperazione Tra l'altro ci lascia poi come arma La mannaia Che è un'arma che scala A con forza Anzi forse è la prima arma Che scala a con forza Che si trovi Eh togli un bel po' eh Però di stamina La nostra cara amica Volevo fare il backstab Ma sono riuscito comunque a beccarla Mmm non mi è piaciuta tanto Come ti sei girata eh Mi sa un po' di bullshit Io bevo nel dubbio Io nel dubbio bevo Storia della mia vita Ah non ho guardato Al falosso Avevo delle ceneri Delle ossa del polvere di non morto Da buciarci Nel tal caso Potevo avere le feschette Adesso spiu uno Che in questo momento Non morire Sono morto seriamente contro di lei Sono stato un cavallo goloso Mi soffio un attimo il naso E torno subito Chiedo scusa Guarda come sorride Eccoci Tra l'altro Adesso non siamo più in forma umana Infa beh Mi viene a dire in forma umana Statevene Sappiamo bene che non è forma umana Sono Con la braccia ripristinata Però così ho meno vita Ok Stavolta facciamo le cose in maniera intelligente Quindi buttiamoci addosso Questo tipo dall'altro Non tirare il calcio Ecco Una cosa che non riesco a spiegarmi È come il calcio Parta sempre Quando non lo si vuole far partire E quando lo si vuole far partire Non si riesce minimamente A combinare qualcosa Stavolta vediamo se riusciamo Seriamente a fare il backstab Almeno per velocizzare Anche se in realtà Forse stiamo rallentando Data la velocità a cui stiamo andando Ogni volta col backstab Ho dei seri problemi Dato che lo faccio sempre troppo tardi E non riesco a farlo Che mi piace Che siamo riusciti quasi in tempo No Scherzo Ritiro tutto Non ho più stamina Potevi rivolare indietro di sotto Con la vita che ti rimane Però Ah non cacciarmi nel veleno Lo togliamo via E questo dove è sbucato È quello laterale Che abbiamo ignorato Sto giro Ok Non stai attenti Fai il piacere più grande Più grande della vita Invece no Preferito rompermi il cazzo E farmi spiegare un astus La deve smer... Ah perché quello là Che tra l'altro non è morto Urla E quindi richiama gli altri Però Io ho paura a buttarmi di sotto Se devo essere sincero Ci proviamo E perderemo tutte le nostre anime Immagino Sta cazzo di radice Più che altro che No? Sei riuscito a gestirla? Buono No non ditemi che sono In un mezzo vicolo cieco Cioè l'unica sporgenza Che non conta un cazzo Ok un po' di danno Lo prendiamo Altro che un po' di danno Ci moriamo qua Quella sporgenza È una maledizione totale Cioè il nemico Si può mettere lì Continuare a chiamare altri nemici Che immagino comunque Siano i nemici della zona Quindi intanto diciamo Ciò alle nostre anime Ehm Può chiamare i nemici della zona E noi ci attacchiamo E ho perso tutte le anime Ok Ricominciamo a gestire bene la situazione E ho tirato il calcio Che odio Perché questi nemici Vanno gestiti velocemente Quindi il calcio Ti fa perdere tempo Perché perdi un attacco E loro intanto si trasformano Ah Non è una zona difficile eh Per di più è una zona molto breve Prima di arrivare al prossimo falò Solo che se ci si perde In tutte queste quisquiglie Guardate che parole Che vi usano a Rotus Quisquiglie Andiamo anche da sto qua Così non ci viene richiamato successivamente Mi è piaciuto Ehm Niente Sì mi piacerebbe Forse un pochino più veloce l'arma però E questo è il contrapasso Che è un'arma lenta E Però forte Mancato E non va bene Perché poi non so se ho abbastanza stamina Per fare il quarto attacco No ce l'avevo Però non ne ho Devo rigenerarla Scatta indietro Recupero la stamina Attacca E andiamo stavolta ad uccidere Mildred Per l'amor di dio Andiamo di non farci uccidere Sono notato che cominciano a scarseggiare un po' le bracci Le bracci Per adesso Ok calma 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 Ti devi calmare tantissimo E devi smetterla di tirarmi la merda addosso Ad esempio Ma se ti metti la merda addosso Io ti tiro le bombe Brava Brava Ti tiro le bombe Che non ti fanno un cazzo Piacere saperlo Uuuuh Meno male che ti ho stannato per un secondo Se no Stavo fresco Cosa ha fatto Non volare giù Che poi Vorrei riprendere il tuo loot Cioè in teoria mi avete detto E funziona Che se esci e rientri Riesci a recuperare il loot Però vorrei non Cioè vorrei comunque avere l'onore Di dire Ho battuto il nemico Maledetto Infame Stronzo Oh sei morto E dammi la tua mannaia Ora Mentre crollo i miei piedi Mannaia Tra l'altro qua si trova Il set completo Del brigante E dovrebbe esserci lì Anche le armi Oltre l'ascia Arriba entrato prima Qui ci sono i due pugnaletti E qua dove siamo morti precedentemente Ma la macchia di sangue Con le anime È rimasta su Che comunque Non è che fossero tante 2310 anime E non abbiamo neanche ucciso Tanta gente Quindi tutto sommato È andata abbastanza bene E Cioè tutto sommato Danno un po' di anime Ora c'è l'ultima Prima zona Prima del falò Che volendo Uno potrebbe lasciare Andare dal falò Però Noi siamo delle gente Coraggiosa Disse Poco prima di morire Ah segreto Io ti voto Ah lo sapete che ci ho messo Un'eternità per capire Come scendere giù E adesso Grazie al messaggio L'ho capito Perché altro Male che si stanno già evolvendo Beh finché quella Mi lancia veleno Non mi fa paura Mi fa paura Questo che comincia a evolversi Madonna Attacco in corsa Però Sì mi basta la stamina Per un pelo Per un pelor Ah 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 Le grandi battute Sulle divinità di Dungeons & Dragons Ho finito tutto E con tutto Intendo tutta la stamina E comincia ad esserci un po' troppo pieno Dell'aria Uccidiamo almeno uno Almeno uno Uno è morto Ok Perché se poi sei da solo Più o meno potrei riuscire a gestirti Più o meno No Perché non ci sto capendo niente C'è un dirupo Quindi vediamo di No sono in due di nuovo Che odio Siete assieme No sei da solo Ah sono così grandi i loro ali Che non si capisce minimamente Chi sono Dove sono E perché sono Beviamo Pessima idea Però L'abbiamo gestita abbastanza Non ho più stamina Ok Sto premendo come un dannato Perché come sapete Io sono ignorante Non sono per niente studiato Su Dark Souls Per usare l'italiano Corretto Te Infari maledetto Smettila Di chiamare Amici Sei ancora vivo Non più Risalgo a prendere l'oggetto Scusa Mi hai fatto anche perdere tempo Quindi Bracce Ok Appunto mi stavo lamentando Della penuria di bracci E andiamo a vedere Se Se già che non ci sono nemici Facciamolo Sotto cosa c'è In teoria potrebbero Madonna c'è un altro Di questi stronzi No non mi piace che Quando salta Io non ci capisco più una mazza E rischio poi di finire di sotto E non voglio finire di sotto adesso Anche perché ho 3000 E passa anime Lì ci siamo già stati qua sopra Prova salta No Se salti qua muori Ed è quello che ho sempre provato a fare Con scarsi risultati Ah lì c'è un oggetto Quindi andiamo a prendere l'oggetto Non ci provo neanche a farti il backstab Vengo ignorantemente a farti male Quattro attacchi però sono lunghi da fare con l'arma lunga Mi sa che erano quattro anche con la spada lunga Ghiacciata Però con la spada lunga sono un pochino più veloci Ok A questo punto Torniamo effettivamente Là Ci buttiamo di sotto Raccogliamo gli oggetti che ci sono sotto Che non ho raccolto Nella mia partita privata Quindi è totalmente Una novità per me Ottimo sapere che bastava buttarsi di qua E non fallire miseramente in 200 salti Dall'altra parte La fiaschetta la beviamo E spero Ah no ci sono due cani qua dietro Ah ci ho riuscito a volare una volta Ecco una volta mi ero buttato E riuscito magicamente ad atterrare Correttamente Oh no Piccato questo è un cane normale L'altro è un cane bastardo Di aia c'ho la spada bastarda Ah ah Le grandi battute sul bastardo Che per bastardo si intende in questo caso Una spada mista Nel senso che non è Né una né due mani È una mano e mezza Sei morto anche te? Ok Vediamo cos'era Tomo divino di Karim in Braille Credo serva da consegnare a qualche NPC Anello di Mordner Cosa fa? Ah ho giusto lo spazio per un anello Ah no c'è anche l'altro Potenze e miracoli Non mi frega niente Rimettiamoci questo Che probabilmente me l'ha levato No forse l'ho levato io per sbaglio O me l'ha levato nel momento in cui ho parlato con L'amico Fritz Di cui non mi ricordo già il nome E Bene buttiamoci giù Ui E finalmente arriviamo al prossimo falò La zona dovrebbe essere stata esplorata a puntino Accendiamo il falò E facciamo la conoscenza di questi due personaggi Che ci seguiranno a lungo Nella nostra avventura Questo simpatico cavaliere Che non è un uomo di molte parole Però ci dà il patto del sentinale blu E non dice nient'altro Invece Questo cavaliere Oh salve Piacere di conoscerti Sono Henry di Anstora Una fiamma sopita Proprio come te Lui è Horus Amico e compagno di viaggi Voi anche tu alla ricerca dei signori dei tizoni Abbiamo camminato a lungo Sulla strada dei sacrifici Più avanti trovi il bosco dei crocefissi Oltre i boschi inondati C'è il forte di Farron Casa della legione dei non morti Più in là La cattedrale delle profondità E' lì che andiamo Alla dimora del tristo Aldric Ora ci separiamo Ma siamo entrambi alla ricerca dei signori Quando ci incontreremo nuovamente Forse avremo bisogno di aiuto reciproco Che le fiamme ti indichino la via Praticate saranno un personaggio Che più volte troveremo il suo simbolo L'evocazione per evocarlo A farci dare una mano E' vero Horus Non parla molto Ma non pensarne male E' un cavaliere retto e gentile Ottimo compagno per un viaggio periglioso Senza il suo aiuto Avrei rinunciato a questo compito in grado Molto tempo fa Molta strada Molti sacrifici Sono scorsi sotto i nostri piedi Più avanti trovi il bosco dei crocefissi Ah beh questa l'ha già detto Ok Tra l'altro Ma ha detto Zetto Che Se lo si incontra Se si è fatto un personaggio maschio Lei è femmina Se si è fatto un personaggio femmina Lui è maschio E riposiamoci A sto giro così Recuperiamo tutto Mi sa che non abbiamo abbastanza anime Per potenziarci Ma soprattutto Vorrei fare un po' di progresso ancora E Però il prossimo falò Non è proprio dietro l'angolo Però Cioè in teoria c'è un falò Mezzo dietro l'angolo Però A parte che la zona è rischiosa Ma vorrei prima Vorrei tanto fare un imboscato a questo Ma non ci riusciamo Vorrei andare in un'altra direzione Perché In questa zona Perlomeno per quanto ho visto io E potrei aver visto poco Potrei essermi perso qualcosa In questa zona In questa zona Diciamo Ti porta in due direzioni diverse Sono riuscito a prendere danno Col primo nemico della zona A prendere più volte danno Col primo nemico della zona E a mancarlo miseramente Ok No La spada bastarda Comincia a deludermi Potrei davvero pensare Però Bolo già potenziata Troppo tardi Per tornare indietro Sui nostri passi E Volevamo farlo Volevamo farlo Lo facciamo Sto per dire È mancato Invece Ah Dimenticavo che c'è anche il cane Che come sempre È un grandito in quel posto E ho calciato Logicamente E mi dà fastidio del cane Che quando gli fai male Viene sbalzato via Ed è più un aiuto a lui Che un aiuto a noi Ho finito la stamina Che odio Mancato Ok Questo è Un frammento di titanita Utile a niente Cioè no È utile Però poi Davvero Poi si è trovato davvero tanti Ma davvero tanti Praticamente ogni nemico Tiene troppo a uno Quasi Volevo riuscire a gestire la folla E la spada bastarda Dentro io Contavo che la gestisse Abbastanza bene Non sta andando così Per niente proprio Ma per niente niente Quello ha caricato Ok Beviamo Potrei bere un po' di più Devo assolutamente vedere Cosa che non ho ancora fatto Se ho le Sono le ceneri Le polveri da bruciare Nel falò Per potenziarlo in più uno Perché È un aiuto non da poco Con un Già con solo Nestos più uno Si riesce A Ad aumentare di un sacco La Il genero Della propria Vita Non era difficile Come farsi da dire Ma mi sono imbappinato Logicamente E Anche te Mi scrive sono le vecchie conoscenze Da Dark Souls 2 Anche se Di solito Mi sto diventando questa anima In Dark Souls 2 Un frammento di titanite Tu guarda Se non sbaglio Sparavano veleno Cioè Generavano una nube Di veleno Tu guarda C'ho una festa E non sono stato invitato Io mi auto invito Da bravo Manfano E infatti Avelenano Ok sto per dire Quando mi sono Reso tanto conto Se stessero avvelenando Perché non sono mai riuscito A spararmi Buttermi lì in mezzo Mi ha dimostrato Che si avvelenano E come Ci si divertono anche E già che sono avvelenato Posso starci anche in mezzo Tranquillamente Forse diminuisce Più lentamente Se ha due mani Ci sta tanto Cioè devo comunque Darci due colpi Allora tanto vale Che vada una mano Che forse sono più veloce E l'oggetto è Frammento di titanite Ma va Tu guarda Oggetto nuovo Facciamo un backstead Per una volta Mentre sto lentamente Morendo avvelenato No Non lo facciamo Perché non ho avuto voglia Di pazientare E' troppo lenta La camminata normale Ci sono tanti nemici Anche qui Quindi vediamo di gestirli Abbastanza bene Tre colpi Sono tanti Da darci Frammento di titanite Tu guarda Scudo dei draghi gemelli Poi vediamo Di cosa si tratta Anche se per ora Mi piace questo scudo qua Se devo essere sincero Quando non ho lasciato Niente indietro Perché mi sembrava ci fosse No Allora leggiamo qua In zona franca Cosa fa lo scudo dei draghi gemelli Anzi no Sono avvelenato Non è un'ottima idea Andiamo avanti E vediamo di recuperare Gli oggetti che ci sono Quei in giro E poi di In realtà non lo so Cosa riuscirò a fare Mi sa che ho attirato Dei nemici E me ne sto spiegando Da dove è sbucato il cane? Io l'ho visto sbucare Dalla roccia Ma può essere Che me lo sia perso E assolutamente Devi bere Ma tanto Bevi tutto Non abbiamo più estus Ottimo Ottimo non proprio però Nella disgrazia Stanno ci si fanno risate Abbiamo anche le anime buone Tra l'altro E da qua in avanti La situazione non è che Migliori molto Anzi Anzi Però in teoria ci sta Che la prima volta Qua c'è un falò? Da quando? Io non l'ho mai visto Questo falò Vi giuro che è la prima volta Che vedo sto falò E va bene così Proprio quello che ci serviva Anzi 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 Viaggiamo E andiamo All'altra area del vincolo Almeno ci spendiamo le anime Nella destrezza Almeno per sbloccare qualche arma Mi soffio il naso Durante il caricamento Scusate Ho avuto molto il caricamento Grazie Questo è un avvici nuovo L'ho incontrato per la prima volta poco fa Nel solataggio Mmm Sono una fiamma soppita Vera? Io sono Siris Dei regni della penombra In precedenza servitrice della divinità Abbiamo ambedue un compito da svolgere Ed è un compito solitario Non abbiamo Non abbiamo molto da guadagnare collaborando Sto morendo Posso la luna benedire i tuoi viaggi Un attimo Che vita di merda Vi chiedo assolutamente scusa Vero vi chiedo scusa Per la mancanza di professionalità Che contiene questo video Ma purtroppo non posso farci niente Nel senso che io Mi sveglio la mattina in questo stato Che comincio a fare notire E ci vado avanti tutto il giorno Quindi faccio del mio meglio Per cercare di sopravvivere E andiamo a livellare No davvero vi Brucerei l'episodio Brucerei l'episodio Ve lo giuro Solo che non si può tornare indietro Quindi Ok Adesso mi calmo Vediamo un attimo invece com'è con la spada Appunto di ghiaccio Ok Qua Poi accanto È tutto peggio Tutto peggio Però fatemi vedere Com'è la velocità Proviamo a usarla un attimo Contro i nemici Vediamo quanti attacchi ci vogliono Per buttarli giù Perché se sono sempre tre Tanto vale Tenere questa Mi muto di nuovo Scusate Eccoci qua Ok Direi così Testiamo un attimo Non voglio andare troppo avanti Più che altro perché l'episodio Non vorrei Stia diventando troppo lungo E soprattutto perché Beh vede uscire Giusto per vedermi con lo zetto Sì Tre attacchi uguali E li tiro molto più veloci Quindi per ora stiamo così Diciamo che la spada bastarda Può venirci bene Più avanti Se la potenziamo La infondiamo Potrebbe essere stata una brutta scelta Spendere la titanita lì Ma vabbè La recupereremo Prima o poi Quali siamo stati qua giù Dunque quel falò Io non l'ho mai visto Sì ci siamo stati Perché ci sono quegli schifi lì Proseguiamo un po' Stavo pensando Perché se proseguo di qua Devo andare dal boss E Non ci sta dentro l'episodio Preferisco proseguire Da un'altra parte E Arrivare a un altro falò Quindi intanto sblocchiamo Diciamo dei falò chiave Per il futuro Wow Ho shottato un piccolo gran Che è un peccato Che in giro c'è anche la mamma Che non è molto propensa A vedere i suoi figli uccisi O in generale Molto rompiballe Ok La devo andare Se vado allora Accorgo gli oggetti E mi aspetta un combattimento Piuttosto tosto Contro dei nemici Quindi tutto sommato Apprezzo la scelta La mamma È arrivata Vogliamo provare ad affrontarla Deve essere la nostra fine Non mi sto togliendo un cazzo No Non volevo minimamente affrontarti Se esco dalla palude Sono morto Yeeey No Proviamo un attimo A vedere di arrivare lì Senza attirare troppe Mamma e granchi Arrabbiate Quindi magari Non uccidiamo i granchietti Non so se funziona così Però possiamo scoprirlo E scopriamolo E magari facciamo il giro Un pochino più lungo Costeggiandolo Passando proprio In mezzo al mare E forse è la stessa cosa Che ho fatto anche prima Proprio lì il granchietto Cosa dici Non ce la tiri una spadata Passiamo esterni Con calma Non capisco se Vedete Laggiù in fondo Basta che non ci caghi E per me va bene tutto Ci sono delle scalette lì Ma non le prenderemo Prenderemo successivamente Ah forse l'ho tirata Proprio qua Sì 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 Prendi e sali Così lei non ti caga più Adesso Ci aspetta un combattimento Piuttosto impegnativo Sto guardando Perché dovrebbe essere in due Io ne vedo solo uno Perché l'altro dov'è Non vorrei che poi Mi arriva anche l'altro Quindi facciamo Eccolo lì Ok ne ho tirato uno Va bene Con un randello Per di più le loro armi Ci vengono droppate Voglio allontanarmi Perché non voglio che Anche il suo fratello ci veda Tra l'altro Come elmo Non ha lo stesso elmo Di Horus Horus quello muto Ah Quanto attacchi Io pensavo Ti fossi fermato Volevo farti in backstab E invece Mi hai schiantato C'è di buono Con lo scudo Che pare al 100% fisico Che non è male Ok Non specchiamo troppa Stamina Oh no Oh no È arrivato il fratello Sapevo Che non potevo fidarmi In due Può essere impegnativo Anzi può essere proibitivo Osare di dire Però vediamo se riusciamo Mira l'altro Mira l'altro Grazie Rotola Perché lo so che arriva l'altro No si sta curando Però è evitato Merda Non ti curare Non puoi Non puoi Devi morire Devi morire E lasciarmi combattere Da solo Col tuo fratellino O fratellone Perché è venuto in difesa Non ci provare È morto È morto È morto È morto Evita 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 Curati come se non ci fosse un domani E non c'è un domani Perché ti uccide Se non riesci a farlo Volevo anche recuperare l'oggetto Perché non voglio poi perderlo Mazza grande Che è proprio la sua arma Anche quella è un'arma bella ignorante Però troppo lenta L'ho provata Anche sta spada è abbastanza lenta Volevo essere più veloce In realtà E sperare di Bloccarlo Come col fratello Perché bene o male Una volta che si riusciva ad attaccare Non è il momento Di raccogliare Io te lo dico Non è proprio il momento Allora Aia Cosa vuoi fare Non capisco Mi hai dei pugnetti Toc toc C'è nessuno Detto lo scudo Wey No in teoria forse Deve essere l'attacco che mi No però Teoria dovrebbe Aprirmi lo scudo Nel senso Scoperchiarmi lo scudo Per attaccarmi Però non lo fa Quindi immagino Che sia un attacco a caso Questo è un attacco fastidioso Magari lì è partito anche lui per caso Nelda Non voglio mandare tutto a bagasce Per l'attenzione dell'ultimo momento Comunque questi nemici non rispondono Quindi averne ucciso uno Vuol dire Che Poi ci sarà solo l'altro Ad affrontare Riuscito a non colpirmi neanche una volta Ero quasi in backstab Ero quasi in backstab Mi sembri molto più sveglio di tuo fratello Almeno per le schivate Quando Ti trovi coinvolto in una serie di colpi Impari a schivare Mi potrebbe interessarmi Niente Scherzavo Ti ho dato troppo credito Spadone dell'esule Che è proprio l'arma che c'ha dato lui Poi vedremo le statistiche Ci dirigiamo invece Al prossimo falò Che è proprio qua dietro Progresso Più che altro Abbiamo sbloccato un po' di zone interessanti Voglio prendere quell'oggetto O è l'oggetto che mi porta alla morte Perché c'è un nemico qua dietro No Prendo l'oggetto Osso da ritorno Che non ci dispiace Andiamo ad attivare il falò Poi Tuttavia Non proseguiremo da questo falò Ma dall'altro Perché mi piace di più come zona L'ho già affrontata un po' di volte Anche questa l'ho affrontata un po' di volte Però l'altra Mi piace particolarmente Proprio mi piace dal punto di vista del design Falò acceso E noi Ci vediamo Al prossimo Al prossimo video Spero vi sia piaciuto questo video Mi dispiace davvero tantissimo Per gli inconvenienti Biologici Dati dalla mia allergia Spero comunque vi sia piaciuto questo episodio Che possiate sopportarlo Perché Davvero C'è tutto Menché professionalità In questo video Se vi è piaciuto Mettete mi piace Condividetevi Come ci possiamo pensare di genere Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao